Un Polesano su due è preoccupato per la questione furti che soprattutto d'estate si fanno sentire. Lei effettivamente è preoccupato e magari si tutela in qualche modo tutela la sua casa? Allora, non sono particolarmente preoccupato, in quanto penso che in ogni stagione estiva il problema forse si aumenta. Però ecco, giustamente bisogna avere le cautele, per cui nel nostro caso abbiamo installato qualche anno fa un'allarme, dopo che una decina di riparo non abbiamo avuto un furto. Per cui non particolarmente preoccupato, ma sempre attento e deve avere le giuste precauzioni. Grazie. Siamo preoccupato per la questione furti in Polesano. Secondo lei c'è il problema effettivamente e si deve tutelare in qualche modo? Secondo me il problema in Polesano non esiste. Dei furti in abitazione, perché, guardando le statistiche, ci siamo nettamente a di sotto di qualsiasi strada, dalle stesse dimensioni o anche di dimensioni inferiori. Per cui questo penso sia un non problema. Grazie. Il Polesano su due è preoccupato per la questione furti nel nostro territorio. Anche tu sei preoccupata e in qualche modo tuteli la tua casa? Allora, la preoccupazione sicuramente c'è. Però, insomma, ho cercato di tutelarmi, per cui, insomma, la prevenzione serve. Grazie. La gente ha paura dei furti nelle proprie abitazioni. Tu sei preoccupato e magari sei qualche cosa per tutelare la tua abitazione? No, io non ho paura, insomma, di questi furti. Sento avere bisogno di una paura, insomma. Grazie.